Mi puoi prendere? Sta per succedere la magia? Uè! E tu sai anche per caso che numero ha questo? Uno. Brava, amore! Allora ti faccio vedere il prossimissimo lancio. Perché dobbiamo fare il naming? Dobbiamo fare il naming. Ragazzi, siamo all'ultimo step, ma vanno riempiti manualmente. Riempiti e poi finiti a casa vostra. Un bacio, ciao! Un bacio, ciao!